35 anni che è on the road è un musicista che mi ha sempre affascinato mi ha trascinato in tante situazioni tanti ricordi, tante belle cose mi rende rock and roll! Mr. Brian Cazzoliga! è la prima volta che non devo alzare il microfono ooo... è la prima volta! è la prima volta che si fai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti